Dopo partita, mister Bagietta, tecnico della Voltrese, 6 a 0, un risultato indubbiamente importantissimo alla vigilia di due ultimi turni di campionato. La Voltrese spera ancora, soprattutto ha fatto una gara veramente piena di voglia. Sì, come dicevo prima al tuo collega del secolo, noi siamo vivi, abbiamo perso la penultima partita per fortuna, ma siamo vivi nel nostro campionato, non ti dico che sta incominciando adesso, però adesso i ragazzi sono tutti atleticamente ben mesi, abbiamo voglia di correre, abbiamo voglia di salvarci. Domenica sarà un'altra partita importantissima sul campo dell'Arenzano, quindi un'altra battaglia dove sarà importante in particolar modo che cosa, mister? Concentrazione, cuore, grinta? Noi quando perdiamo la concentrazione perdiamo tutto, quindi sarà importante molto essere concentrati fino all'ultimo secondo della partita e poi vedremo quello che viene fuori. Grazie mister Baglietta per la settimana sport.